Buongiorno Voi tornate ragazzi, sono io e stai per l'escolto E io faccio la cosa Il tema di via caglie di Pokémon Pokémon, la casa che ho fatto è di Il film anime Il film Il porto tutti Oh, ci sono i video dei Pokémon Poi c'è Pokémon il canneo Il film anime Il film anime stupendo Qua va Poi c'è Pokémon Il film anime stupendo Poi c'è Pokémon la viola dei ninja Il film anime stupendo Pokémon Il film anime stupendo Pokémon Pokémon dopo l'altro Il film stupendo Pokémon Pokémon Un Bracchetti compatenti Stupendo Arrivare Tijadao Tu